Sandro Calcaterra, si riaffaccia l'A1 con questa squadra neopromossa, Roma-Visnova, che avventura sarà? Sarà un'avventura difficilissima ma allo stesso tempo bella, la volevamo questa promozione da qualche anno e l'anno scorso siamo riusciti ad ottenerla disputando un campionato quasi perfetto perché abbiamo perso tra pre-off un campionato soltanto una partita, ma questo ormai è già passato ci tuffiamo in questa realtà che è totalmente diversa dalla 2 quindi per noi sarà molto faticoso adattarci ai ritmi diversi di questo campionato però sono convinto che alla fine riusciremo a dire la nostra Piccoli passi ma misurati per rinforzare una squadra e cercare questa salvezza Sì, a piccoli passi perché sono convinto che alla fine il gruppo fa sempre la differenza quindi l'anno scorso era un gruppo molto molto coeso, molto uniti abbiamo lottato, abbiamo fatto sacrifici tutti insieme, siamo riusciti a superarli quindi per quale motivo smantellare tutto quindi abbiamo cercato di unire a questi ragazzi delle altre persone con delle qualità magari diverse e superiori per farsi appunto di raggiungere questa salvezza che sarà molto 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 dura perché anche le altre squadre mi sembrano tutte molto competitive, attrezzate però il campionato è lungo e poi ci sarà quella pausa di mezzo, quei due mesi dove ci sarà anche lì da lavorare poi avendo comunque una squadra abbastanza giovane magari per la seconda parte saremo ancora più pronti Grazie Sandro Grazie 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 Grazie.